hai già pensato a cosa ti dirai quando arriverai nel futuro ti piacerà il risultato della vita che hai pianificato sarai felice con quello che hai conquistato la vita è fatta di scelte e queste possono determinare come sarà il tuo domani per questo è molto importante pensare in tutto quello che fai un cammino errato può portarti ad un destino oscuro e molte volte senza ritorno e in questa camminata ogni scelta importante hai bisogno di scegliere la professione giusta gli amici giusti sapere scegliere quelli che saranno i tuoi maestri i tuoi mentori e chiaro chi dividerà la vita con te per tutto il tempo hai già tracciato i tuoi obiettivi le tue mete i tuoi sogni si preparato per il confronto finale con te stesso si pronto per guardarti allo specchio e dire io ho vinto in caso contrario dovrai accontentarti del futuro che il destino ha scelto per te non farti trasportare dalla fortuna o da una semplice intuizione che possa andare bene fai in modo che vada bene non lasciare che le tue scelte mettano punti in posti dove dovrebbero esserci appena virgola nessuno può chiederti di più se non tu stesso sei tu il grande capo della tua vita del tuo futuro pertanto sei tu che sai quando devi migliorare o fare un upgrade dimettiti dalla monotonia dalla pigrizia dalla cattiva volontà dagli errori valorizza elogiati criticati fallo o qualcuno lo farà per te la tua immagine di domani è basata su quello che hai fatto ieri e ricordati ogni ruga creata nel corso della tua vita può significare una conquista o una sconfitta ma questo solo tu puoi sceglierlo